Non ho pensato niente perché io ero d'accordo con società, quando arrivo l'offerta giusta io parto, è arrivata e sono partito. Rappresenta un top club che io volevo e per questo sempre ha lavorato per arrivare a un top club dove si può lottare per vincere. Con Andanovic ha il debutto in campionato con la maglia dell'Inter. Partito il tiro, parato, parato. And save by Andanovic. Vola, 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 vola! Sono molto orgoglioso però penso che non si deve parlare di capitano o non capitano ma si deve parlare dell'Inter. workinge a personaggiare. Si,reiıyor il tremolo il potente. Grazie a tutti. Parato! 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 Va guardandovi! Parato! Parato!